Hercules è la gamma di pozzetti ideati da Irritron per unire la massima protezione delle parti interrate e la praticità d'impiego. La gamma Hercules soddisfa tutte le esigenze dell'installatore professionista. Circolare piccolo, circolare medio, rettangolare standard, rettangolare giambo. Guardiamo ora le innovative caratteristiche dei pozzetti Hercules più da vicino. Notare l'invito per la mano che rende rapida e semplice l'apertura. I bordi del coperchio con speciale chiusura battente proteggono l'interno del pozzetto da acqua, terriccio o altre impurità. Il colore verde del coperchio, simile ai nostri vanti erbosi, riduce notevolmente l'impatto visivo del pozzetto. Gli angoli rinforzati rendono più stabile e resistente il pozzetto, mentre le pareti, nelle zone delimitate, possono essere facilmente tagliate. I pozzetti Hercules, anche aprendo interamente le aree di taglio, sopportano fino a 1500 kg. Il coperchio è dotato di superficie antiscivolo, che anche bagnata, evita il pericolo di cadute accidentali. Vediamo ora il montaggio del pozzetto rettangolare standard. Realizzate uno scavo delle dimensioni del pozzetto. Questo diminuirà problemi di assestamento. È buona pratica mettere della ghiaia per migliorare il drenaggio e la pulizia del pozzetto, ed evitare l'eventuale risalita di acqua. Una volta installate le valvole, segnate sul pozzetto i punti in cui dovrete effettuare i tagli, prestando attenzione che siano all'interno delle zone delimitate. Vi basteranno delle semplici forbici da giardiniere, senza bisogno di utensili elettrici, per realizzare il taglio della forma e dimensione desiderata. La possibilità di realizzare facilmente le aperture permette di tagliare la parete lo stretto necessario per il passaggio dei tubi, impedendo così l'ingresso di terriccio e altre impurità all'interno del pozzetto. La sede di inserimento e la maniglia ad incasso rendono semplice ed immediato il posizionamento del coperchio. È buona pratica rimettere la terra con il pozzetto chiuso, facendo attenzione che non si sposti o si sollevi. I pozzetti Hercules rappresentano il frutto della continua ricerca e innovazione che contraddistingue il marchio Eritron. Per il tuo impianto a regola d'arte, installa Pozzetti Hercules.